Buongiorno notizia. 21 passeggeri, tra cui due bambini, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno seguito le fasi dell'atterraggio d'emergenza. Il velivolo è atterrato regolarmente, i passeggeri stanno tutti bene. Poi conforta la notizia di Repubblica Palermo. A Motta Sant'Anastasia, sassi contro i veicoli, tre minori denunciati, danneggiamento in concorso e getto pericoloso di cose in concorso. Con queste accuse i carabinieri di Motta Sant'Anastasia hanno denunciato alla Procura della Repubblica per i minori di Catania tre ragazzi, tra i 16 e i 17 anni, tutti mottesi. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, i tre sarebbero gli autori del lancio di sassi contro alcune auto in transito lungo la strada provinciale 13 a Motta. A segnalare il grave pericolo alle forze dell'ordine, sono stati gli stessi automobilisti colpiti dai sassi. Dall'attività investigativa dei carabinieri è stato accertato che i tre, per non essere visti, si nascondevano in una struttura abbandonata vicino alla strada. Da qui avveniva il lancio dei sassi contro le automobili di passaggio. Tre le vetture colpite, si diceva, e danneggiate dai teppisti. Per fortuna non si sono registrati feriti. E adesso parliamo di altro. Il governo regionale intervenga per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'avvio dei lavori di adeguamento antisismico al secondo e al terzo piano dell'ospedale di Paternò. A dichiararlo è l'esponente dell'opposizione all'arsenello musumeci che ha presentato un'interpellanza al presidente della regione, Rosario Crocette, all'assessore alla salute, nella quale sottolinea come proprio il completamento dei lavori permetterebbe finalmente, dopo sei anni di disagi, la riapertura di quegli spazi e il potenziamento dei servizi offerti all'utenza. La struttura ospedaliera Santissimo Salvatore si legge nell'interpellanza da un decennio si trova al centro di una strana e poco chiara vicenda politico-burocratica relativa alla realizzazione di lavori di adeguamento antisismico avviati e mai completati. In particolare, ricorda Musumeci, i lavori vennero appaltati nel 2006 per l'ammontare di 7 milioni e mezzo di euro e aggiudicati alla ditta Lorre di Paternò che nel marzo 2009 attivò il cantiere. Il mese successivo i lavori si fermarono temporaneamente, si disse, per un errore progettuale, ma non sono mai più ripresi. Da allora i due padiglioni al secondo e terzo piano della struttura sanitaria restano chiusi e inutilizzati con pesanti, inevitabili ripercussioni sull'attività sanitaria. Alla luce di tutto, conclude poi Musumeci, un intervento risolutivo è necessario per venire incontro alle esigenze dei pazienti e valorizzare questa struttura ospedaliera.